Da un sondaggio del sole 24 ore sul gradimento verso i sindaci delle città capoluogo è emerso che in Abruzzo primeggia Marco Alessandrini, primo cittadino di Pescara, anche se, come gli altri, ha perso punti rispetto al giorno dell'elezione. Alessandrini riscuote attualmente un 59% dei consensi, mentre il sindaco di Chieti Umberto Di Primio è al 53%, terzo gradino per Massimo Cialente dell'Aquila al 51,5%. E poi c'è il terramano Maurizio Brucchi che si attesta al 46%. Dunque i cittadini pescaresi si fidano di Alessandrini, anche se meno di qualche tempo fa. E lui ringrazia, rinnovando il senso di gratitudine, per quanti hanno reso possibile l'indicazione, consapevole che la fiducia e l'apprezzamento delle persone siano merce preziosa che spinge a impegnarsi sempre più a fondo per risolvere i problemi della comunità pescarese. Naturalmente questa classifica del sole 24 ore mi fa piacere, però io so anche che questo in realtà altro non è che uno stimolo a fare sempre meglio, a impegnarsi sempre di più. La fiducia delle persone è da questo punto di vista una benzina formidabile. Io naturalmente ringrazio quanti hanno espresso questo giudizio. Poi certo tutto questo non è possibile se non c'è una squadra che ti supporta e quindi il mio ringraziamento va esteso a quanti, la giunta, la maggioranza, gli uffici comunali, giorno dopo giorno, in questo anno circa in cui ci siamo insediati, ecco mi hanno dato una mano per affrontare i tanti problemi della nostra comunità. Grazie a tutti.